C'è confusione totale. Quasi nessuno è in grado di ragionare adeguatamente con precisione millimetrica assoluta, perché quasi tutti partono da presupposti premesse o non verificate o infondate e quasi tutti non riescono a distinguere il concetto di evidenza dal concetto di plausibilità e apparente ragionevolezza. Si crede che sia scontato un certo insieme di cose e su di quello poi si basa la propria interpretazione della realtà. Questo è il limite, è il problema per cui molte persone non riescono mai poi ad accordarsi e discutono su un qualsiasi tema senza mai arrivare a un accordo. E si rimane sempre nelle proprie posizioni, senza arrivare a una sintesi. Questo è il problema.